continuare a improvvisare soluzioni non vi porterà a nulla quando ogni logica fallisce l'inattività è l'azione migliore sai che ha un senso? ha molto senso questa frase ha molto senso questa frase quando ogni logica fallisce mi è capitato diverse volte che anzi vi dirò, c'è un bellissimo video animato che dice proprio questo di questo tizio, di questo mezzo samurai che si mette lì a meditare arriva una mosca e lo disturba nella meditazione questo prende la spalla e taglia la mosca in due questa mosca tagliata in due diventano due mosche che gli cominciano a dar fastidio quindi prende in una la spada sega queste due mosche diventano quattro e diventano otto, diventano dieci, mille a quel punto cosa fa il samurai? capisce che più cerca soluzioni anzi più si oppone a quello che accade in questo caso alle mosche che gli danno fastidio peggio è peggiorano quindi cosa fa? le accetta le incorpora le fa diventare parte di sé e in quel momento si vive la sua esperienza medita in mezzo alle mosche trasforma le mosche nella sua mente in qualcos'altro e si vive quell'esperienza e in quel momento non ha più il fastidio anzi le mosche diventano parte della sua esperienza della sua meditazione e il concetto di inattività non è errato l'inattività vi permette di ragionare vi permette di pensare cioè l'improvvisare soluzioni a razzo senza una strategia non ha senso non ha senso tanto che a volte spesso e volentieri è una cosa che a me è capitata in alcuni casi quando sembra che molte cose vanno storte se una giornata comincia ad andare tutto storto fermatevi staccate tutto andate a fare altro magicamente si risolvono da sole cioè eravate voi che le facevate andare storte quando le cose vanno storte è inutile che vi affaccendate cioè se entrate all'interno di un loop negativo lasciate perde lasciate perde è come quando giocate a poker e vi entra il giro negativo se la serata è negativo lasciate fa andatevene fate prima è meglio è inutile che vi incaponite l'incaponimento l'incaponimento non porta mai a dei risultati l'incaponimento non vi fa ragionare l'incaponimento non vi fa trovare la strategia giusta né trovare le soluzioni quando vedete che qualcosa non va è inutile che continuate a improvvisare le soluzioni fermatevi ma può fermare staccate staccate fate tutt'altro fate tutt'altro non è capitato più di una volta ci sono dei giorni in cui cioè succede tutto succede tutto quel giorno in quel momento prendi stacchi esci te ne vai e torni la sera basta te ne vai in spiaggia te ne vai da qualche parte fai tutt'altro dimentichi tutto e te ne vai torni hai risolto tutto sei risolto tutto da solo perché eri te con quella energia che facevi i calzini grazie a tutti Grazie a tutti.